Crisi idrica. Enrico Di Giuseppe Antonio, nella sua qualità di Vice Presidente Nazionale del Consiglio di Anci, ma anche di Sindaco di Fossa Cesia, uno dei comuni particolarmente colpiti dal problema, dice basta e chiede alla Regione lo stato di emergenza, ma non solo. Sì, davvero basta essere soli nelle battaglie, oramai guasta anche il rapporto con i cittadini. Poi rigettiamo evidentemente le proteste che continuamente e giustamente i cittadini rivolgono nei confronti dei sindaci. Abbiamo detto che c'è necessità di un'emergenza perché mai nella mia città l'acqua è andata via nel periodo autunnale ed invernale. Quindi c'è un problema da verificare. Abbiamo detto che l'emergenza riguarda soprattutto la necessità urgente ed immediata di verificare come poter recuperare l'acqua. Lo ha detto anche il gestore, per esempio la Sasi, dopo i serbatoi le condutture interne presentano delle rotture e perdite di litri e litri di acqua. C'è bisogno di questa necessità. Allora perché abbiamo chiesto alla Regione? Come è accaduto a me quando ero Presidente della provincia. Bisogna coordinare, capire, risolvere e comunicare ai cittadini. Non c'è possibilità assolutamente di aumentare il costo dell'acqua perché qualcuno potrebbe dire si aumenta il costo dell'acqua e quelle risorse dovranno essere destinate per l'intervento. Questo non sarà possibile anche perché la bolletta è molto cara. Aggiungo, ci sono dei finanziamenti per scelte strategiche. Vedremo questa soluzione, penso, non prima del 2026. Allora c'è bisogno di concretezza. Tra l'altro, soprattutto i comuni costieri colpiti, dobbiamo guardare all'estate. Facciamo un esempio di Fossacesi, uno dei comuni turistici. Ha molte seconde case, ovviamente case che vengono occupate nel periodo estivo. Immagini se continuerà questo problema perché autoclavi in queste case non ci sono.